Il resto di sostanze stupefacenti, dottor Armeri, come è andata questa operazione? Possiamo definirlo il sequestro più ingente di istruvacenti tutta l'isola da sempre. E' andata ieri mattina nella sezione del codice della squadra Monti di Caglia e è intervenuta al porto dove all'interno di un motoscafo proveniente dal porto di Napoli e caricato su un camion sono stati ritrovati 500 grigliacici. Il costruzione è nascosto in zona prua, sotto il pavimento, dove erano state ricavate le intercapedie e assuramente l'indale. Perfetto, questa operazione chiaramente ha pochi giorni, si può dire, dal suo trasferimento dalla Sardegna a altre sede. Un giudizio complessivo? Tutto lo voglio considerare come battuta un regalo che i ragazzi della squadra Monti mi hanno fatto prima che lasci la Sardegna. La seconda è una considerazione che ieri e oggi è stato fatto uno dei sequestri più importanti. Questo vuol dire che il personale della squadra Monti non abbassa mai l'attenzione, comunque segue tutti i fiduoni dello spaccio o anche del traffico, come in questi due anni di mia presenza qui a Cagliari si è occupato di tantissime e tantissime case. Grazie dottore, buon lavoro.